E' Santa Teresa di Lisieux al centro dell'udienza generale di oggi. Davanti alle sue reliquie, Papa Francesco ricorda la sua forza missionaria, lo zelo apostolico. Il rapporto tra i giovani e San Pio è ancora vivo e quanto sostiene padre Luciano Lotti, frate e segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Riportare al centro l'importanza della vita che nasce, promuovendo la cultura della vita e la natalità, è stato il tema promosso dall'Associazione Medici Cattolici di Trani e Biceglie. Territorio futuro è stato intitolato così l'incontro che si è svolto ad Andria tra i giovani imprenditori locali e la diocesi. Torre Coetta Bari, promuovere il rispetto e la tutela dell'ambiente con una campagna di sensibilizzazione che si è svolta lo scorso weekend. Ben trovati prima edizione del nostro telegiornale Santa Teresa di Lisio, Santa Teresa di Gesù Bambino, al centro dell'udienza di oggi. Papa Francesco, davanti alle sue reliquie, ha annunciato una sua lettera apostolica e della Santa, ne ha ricordato la forza missionaria e lo zelo apostolico. Ascoltiamo. Fratelli e sorelli, ecco la forza dell'intercessione, mossa dalla carità. Ecco il motore della missione. I missionari, infatti, di cui Teresa è patrona, non sono solo quelli che fanno tanta strada, imparano lingue, nuove, fanno opere di bene e sono bravi a annunciare. Un missionario anche che comunque vive dove si trova come strumento dell'amore di Dio e che fa di tutto perché attraverso la sua testimonianza, la sua preghiera, la sua intercessione, Gesù passi. E questo è lo zelo apostolico, che, ricordiamolo sempre, non funziona mai per proselitismo, mai, o per costrizione, mai. Ma lo zelo apostolico funziona per attrazione. La fede nasce per attrazione. Non si diventa cristiani perché forzati da qualcuno, no, ma perché toccati dall'amore. Alla Chiesa, prima di tanti mezzi, metodi e strutture che a volte distolgono dall'essenziale, occorrono cuori come quello di Teresa, cuori che attirano all'amore e avvicinano a Dio. E chiediamo oggi alla Santa, abbiamo le reliquie qui, chiediamo alla Santa di superare il nostro egoismo e chiediamo la passione di intercedere. Di intercedere perché questa attrazione sia più grande nella gente e perché Gesù sia conosciuto e amato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Il rapporto tra i giovani e San Pio è ancora vivo, lo sostiene padre Luciano Lotti, frate e segretario generale dei gruppi di preghiera di padre Pio. Vediamo. Un rapporto che non si è mai interrotto e che ancora oggi continua. San Pio amava i giovani, li ha guidati, formati, sostenuti. Lo testimoniano gesti e iniziative che fin da quando era un semplice parroco a Pietrelcina lo hanno contraddistinto. Era innanzitutto lui un sacerdote giovane. Immaginate che nel 1911 lui era a Venaforo, era sacerdote da meno di un anno, aveva 24 anni e aveva organizzato una piccola scuola cantorum nella chiesa di San Martino perché pare Pio non sapeva suonare ma gli piaceva molto la musica e così ha fatto anche a Pietrelcina. Quindi un primo rapporto che lo aveva proprio con queste cose. Arrivato poi qui a San Giovanni Rotondo, San Pio avvia un rapporto epistolare intenso e zeppo di insegnamenti. Come padre Pio aveva un ottimo rapporto soprattutto con i ragazzi che studiavano qui nel seminario di San Giovanni Rotondo per diventare frati. Noi abbiamo una fitta corrispondenza perché questi ragazzi sono stati con lui, hanno fatto all'incirca quelle che oggi possiamo chiamare le scuole medie e durante questi anni pare Pio li seguiva con un rapporto anche molto fraterno, molto amicale. Quando poi sono andati avanti negli studi ha continuato a scrivere delle lettere, ha portato anche a molte allegorie che conosciamo, che citiamo dell'epistolario. Ancora oggi i giovani pregano San Pio affinché aiuti e supporti il loro cammino. I giovani sentono padre Pio che li interroga dentro e in qualche modo li ricostruisce in una situazione che spesso quando arriva in una situazione di rottura, di fragilità, padre Pio offre dei contenuti e delle certezze molto importanti. Promuovere la cultura della vita e la natalità riportando al centro l'importanza della vita che nasce è stato il tema promosso dall'Associazione Medici Cattolici di Trani e Biceglie nella parrocchia dello Spirito Santo a Trani, presente anche Monsignor Leonardo D'Ascenso, arcivescovo della Diocesi. Il tema è un tema centrato sulla cultura della vita, ma proprio quest'anno a febbraio la conferenza episcopale italiana nel suo messaggio per la giornata nazionale della vita ha voluto sottolineare questo aspetto, l'importanza del recuperare, di aiutare la nostra società a maturare sempre di più una cultura della vita perché si registra, ahimè, troppe volte una cultura della morte. È vero che viviamo in un tempo dove le difficoltà non mancano, problemi di diverso genere, a volte situazioni difficili, sfide che sembrano insuperabili, di fronte alle quali poi la risposta è quella di dare morte, ma la morte non può essere una soluzione ai problemi e dunque è da sviluppare, come dicevo, un recupero della cultura della vita, quindi l'accoglienza della vita nascente, l'accoglienza della vita in ogni momento, in ogni stagione, in ogni situazione perché la vita bisogna riconoscerla sempre come un dono mistero grande, prezioso, che va accolto, va accompagnato, va difeso Territorio Futuro è stato intitolato così l'incontro con i giovani imprenditori locali organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Andria il momento di condivisione è stato strutturato sullo stile dei laboratori sinodali Un percorso di dialogo e di progettazione di azioni comuni che coinvolge i giovani imprenditori locali è stato questo il tema al centro dell'incontro dal titolo Territorio Futuro che si è svolto ad Andria nella Casa di Spiritualità Giovani Paolo II con i giovani imprenditori delle città della Diocesi di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge il momento di condivisione è stato inserito all'interno del percorso sinodale organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Andria in collaborazione con la Caritas Diocesana, il progetto Policoro, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e il sostegno di numerosi enti, uffici e associazioni ecclesiali e civili Si tratta un po' di questa serie di incontri che stiamo cercando di mettere su con l'Ufficio proprio all'interno del percorso sinodale in maniera particolare in questa fase dove appunto ci sono questi cantieri che ci invitano ad ascoltare soprattutto ecco chi è fuori un po' dagli ambienti possiamo dire della Chiesa o comunque delle nostre parrocchie e quindi stiamo cercando di intercettare ecco diverse categorie Lo stile è quello sostanzialmente dell'ascolto sapienziale quindi certamente poniamo loro un tema con delle provocazioni ma poi soprattutto ecco ci si mette intorno ad un tavolo per raccogliere soprattutto ecco le loro idee, le loro proposte soprattutto i loro sogni, i loro desideri in questo caso relativi al futuro appunto del nostro territorio Sviluppo economico e sostenibilità socioambientale sono stati questi gli obiettivi dell'incontro per favorire le buone pratiche da mettere in campo Gli scenari si devono confrontare intanto con la grande sfida che è la sfida del cambiamento climatico e la grande sfida della dimensione demografica dell'invecchiamento della popolazione e la grande sfida che ci arriva dall'immigrazione ci sono alcune situazioni che noi viviamo quotidianamente ma che se da un lato mettono in discussione e mettono in crisi quella che è la realtà così come la conosciamo possono essere anche delle opportunità Un focus sul turismo come volano dell'economia pugliese in particolare di Trani e questa è l'iniziativa voluta dal CAT Imprese Nord Baresi e Confessercenti Provinciale BAT in collaborazione con il Comune di Trani è stata l'occasione anche per un confronto sereno sulle prospettive turistiche della città Francesco Rossi Una iniziativa importante quella di mettere insieme il passato, il presente e probabilmente anche il futuro della storia turistica di questa città Sì, spero che possa servire a questo perché è evidente che quando cominci a studiare un pochettino le dinamiche di settori così complicati e complessi come sono quelli del turismo dei vari tipi di turismo ti rendi conto che non c'è una ricetta che è valida per tutti i settori per tutti i tempi per cui ci è piaciuto per noi che studiamo il turismo capire già fin dal 1946 cosa significava in questa città fare turismo questa guida ci ha dato lo spunto per comprendere innanzitutto che già c'era comunque uno spirito non dico associativo ma quantomeno dello stare insieme per creare e riuscire fuori dalle disgrazie della guerra e quindi costruire un percorso innovativo sul presente possiamo dire che anche oggi la presenza del sindaco ci gratifica dal fatto che lavorando soprattutto per questo programma progetto del distretto urbano del commercio riusciamo forse per la prima volta nella storia a cercare di avere una prospettiva quantomeno porre le basi per un futuro migliore perché avere insieme una governance pubblico privata e magari con i commercianti che riescono ad agire all'unisono unilateralmente nei confronti di un'amministrazione non è che sia una cosa semplicissima stiamo crescendo tantissimo e devo peraltro dire che addirittura cresciamo ogni anno ad esempio quest'anno gennaio febbraio marzo 2023 più 20% rispetto a gennaio febbraio marzo 2022 che avevamo col quale avevamo già recuperato il pre-covid 2019 che era stata una fortissima crescita quindi è chiaro che i numeri giocano a nostro favore ma è chiaro che il margine è ancora molto alto nel senso che siamo convinti che turisticamente la città può crescere ancora tantissimo c'è un grande margine di crescita bisogna però stare attenti e cercare di evitare un turismo di massa è il turismo che non vogliamo ma anche perché non siamo pronti a questa tipologia di turismo perché la città è una città di piccole dimensioni a misura d'uomo e non può essere fatta per un turismo di massa A Molfetta si è tenuta la terza edizione dello spettacolo senza sbarre che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport la danza e la musica In servizio Corpus è un progetto di integrazione nato nel 2021 sul palco salgono artisti e atleti che si sfidano in una competizione amichevole dove la fisicità è protagonista indiscussa della scena L'obiettivo è quello di promuovere la coesione sociale affinché sport, arte e spettacolo possano essere praticati anche dai diversamente abili seppur con le dovute differenze applicative L'evento, organizzato dalla Federazione Nazionale Bodybuilding come ogni anno vede la partecipazione delle scuole associazioni sportive e culturali del territorio Pensiamo al corpo che attraverso il suo linguaggio diventa racconto Dall'anno scorso con molta prudenza abbiamo allargato il nostro progetto occupandoci di integrazione e coesione sociale Parlando di linguaggio del corpo pensiamo ad esempio a quelle persone autistiche non verbali o anche a quelle forme di disabilità che a causa di un ritardo cognitivo non consentono una comunicazione verbale compiuta e quindi per forza devono utilizzare la gestualità e le espressioni del viso Quindi quello di stasera sarà un racconto narrato in varie forme e da vari interpreti Il linguaggio del corpo, l'espressione non verbale per eccellenza infatti quando è supportata dalla consapevolezza favorisce la comunicazione Racconto alcune cose che noi persone autistiche viviamo in prima persona perché per anni si è interpretato l'autismo osservando solo le persone autistiche che non parlano e si sono interpretate male alcune cose quindi ascoltare anche noi è importante anche per capire meglio loro e do delle informazioni attraverso le immagini molto semplici ma che arrivano in modo diretto sulla condizione dell'autismo e io sono felice di poter portare il mio spettacolo di danza sulla mente autistica raccontato da una persona autistica che si esprime verbalmente e può farlo anche attraverso il suo corpo e la musica Ci spostiamo a Bari dove a Torre Quetta lo scorso weekend si è tenuta una campagna di sensibilizzazione sull'ambiente vediamo il servizio 3.000 temperamatite a forma di bidone con le ruote per la raccolta della carta 2.000 opuscoli contenenti utili consigli per rispettare l'ambiente quando si è a casa, al lavoro o al mare 1.500 matite e quaderni prodotti con materiale riciclato e circa 1.000 portacenere portatili colorati per contenere mozziconi senza rilasciare odore o sporcare sono questi numeri che attestano il grande successo ottenuto dalla campagna di sensibilizzazione sull'ambiente durante lo scorso weekend a Torre Quetta la spiaggia libera e attrezzata di Bari l'iniziativa è stata promossa dalla Recuperi Pugliesi Società al Servizio dell'Ecologia in collaborazione con l'assessorato alla qualità della vita del comune di Bari le regole, i comportamenti da adottare per voler bene all'ambiente è semplicemente il buonsenso ridurre i consumi, ridurre la produzione dei rifiuti, differenziare e per sensibilizzare lo facciamo anche dando alcuni gadget carini, simpatici e poi quei mozziconi e quel gesto del mozzicone lanciato se riuscissimo a toglierlo faremo del bene tantissimo all'ambiente e se smettessimo di fumare faremo del bene a noi stessi Lo scopo è quello di abbracciare gli obiettivi della giornata mondiale dell'ambiente istituita nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sensibilizzare dunque l'opinione pubblica ad individuare nuove idee e modalità per preservare l'ecosistema naturale Questo evento è anche importante al fine di incentivare coloro che fumano di non gettare cenere e cicche di sigarette per terra In associazione con Asso Mozziconi e Asso Recuperi stiamo cercando di togliere questa modalità di gettare rifiuti in maniera tale da poter essere responsabilizzati nell'avere luoghi comuni puliti Ed ora come ogni mercoledì il consueto appuntamento con la rubrica 120 secondi di fede arte e cultura all'approfondimento di Teledeon sui tesori delle diocesi del territorio pugliese Oggi vi parliamo della chiesa di Santa Maria Assunta Castellaneta in provincia di Taranto La rubrica è a cura di Damiana Dorotea Sgaramella realizzata con il contributo della struttura speciale comunicazione istituzionale della Regione Puglia Benvenuti ad una nuova puntata di 120 secondi di fede arte e cultura Sul ciglio occidentale della gravina grande di Castellaneta sorge la chiesa di Santa Maria Assunta Un gioiello tardo romanico la cui storia e leggenda si uniscono alla bellezza della fede Un balcone privilegiato sull'incantevole panorama della gravina grande di Castellaneta Qui fu edificata la chiesa di Santa Maria del Pesco Oggi conosciuta con il nome dell'Assunta o Santa Maria della Luce La chiesa è legata a una delle varie leggende che narrano la storia di questo gioiello tardo romanico Adagiato in posizione singolare sul ciglio della profonda formazione carsica pugliese Situata accanto a un complesso ipogeo preesistente La storia relativa alla edificazione della chiesa è riportata sinteticamente in una iscrizione epigrafica gotica in lingua latina Smarrita e ritrovata nel materiale di rimpiego durante uno dei diversi restauri avvenuti tra il 1840 e il 1975 Attualmente murata nel varco minore di accesso alla primitiva chiesa rupestre Secondo la tradizione la chiesa superiore fu costruita da un capitano in onore della Vergine Assunta Che con il suo fulgore gli indicò la strada e lo salvò da un nubifragio Anche per questo motivo a guardarla da lontano pare che la chiesetta assuma la forma di una nave L'edificio presenta una facciata romanica con alcuni elementi gotici Il portale principale a tutto sesto è accompagnato da un protiro a colonnine decorate da elementi vegetali e animali Mentre il rosone è affiancato da due leoni di profilo su cornici asimmetriche L'elegante chiesetta rurale al suo interno martoriato dalle trasformazioni avvenute Ospita diversi affreschi di scuola angioina e pitture realizzate dal XIV sino a tutto il XVII secolo In fondo all'abside spicca l'affresco della Madonna con bambino Sulla parete destra della navata è posto un altro affresco analogo molto più antico E proveniente dalla decorazione parietale di una cripta rupestre Che potrebbe essere l'immagine miracolosa comunemente conosciuta con il titolo di Santa Maria della Luce Sulla parete sinistra è situato ancora un altro dipinto della Madonna con bimbo Seduta sul trono che si caratterizza per il verismo gotico Una maniera pittorica tipica della prima metà del XIV secolo Restando sulla parete sinistra è possibile notare tra gli altri dipinti Un trittico con i santi medici Cosma e Damiano E di un santo vescovo probabilmente San Nicola di Bari patrono della città di Castellaneta Sparse sulle pareti interne ci sono diverse figure di santi e sante non identificabili E le scene della vita di Maria e di Gesù Particolare attenzione meritano le monofore, i capitelli e la simbologia Che arricchiscono questo luogo sacro intriso di fede e di spiritualità Una visione mistica e di unione tra cielo e terra L'appuntamento con l'informazione termina qui Grazie per essere stati con noi La linea e la rete per la consueta programmazione Buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti